La direzione investigativa antimafia di Trapani ha eseguito la confisca del patrimonio mobiliare, immobiliare e societario riconducibile a Giovanni Filardo, imprenditore edile originario di Castelvetrano, attualmente detenuto in carcere, cugino di primo grado del latitante Matteo Messina Denaro. Con lo stesso provvedimento emesso dal Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, è stata disposta nei suoi confronti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora per quattro anni. La storia criminale di Giovanni Filardo inizia nel 2010, quando venne tratto in arresto nell'ambito dell'operazione Golem, fase 2, poiché è gravemente iniziato, tra l'altro, di concorso nell'associazione mafiosa Cosa Nostra, dicono gli inquirenti. Nello specifico fu accusato di essere componente del mandamento mafioso di Castelvetrano e di avere posto in essere estorsioni, incendi, interposizione fittizia di valori, nonché esercitato condotte dirette a garantire la latitanza di Matteo Messina Denaro. Per questi fatti Filardo è stato definitivamente condannato alla pena di 12 anni e mezzo con sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Marsala in primo grado. L'attività di oggi che scaturisce a seguito di indagini economico-patrimoniali delegate alla DIA dalla Procura della Repubblica di Palermo, gruppo misure di prevenzione coordinato dal procuratore aggiunto Bernardo Petralia, ha consentito di confiscare un'impresa edile a responsabilità limitata, 23 tra mezzi d'opera, 8 mezzi e veicoli, un fabbricato rurale, 7 appesamenti di terreno, una villa con finiture di pregio, un fabbricato ad uso abitativo e 4 conti correnti bancari.